Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e siamo con Pizzetta Foti da troppo tempo ok ragazzi, forse i veri OG aspettate che... i veri OG sapranno cos'è questa mappa per esempio noi questa mappa l'abbiamo registrata precisamente due anni fa ragazzi, due anni fa abbiamo fatto un video di questa mappa quindi, chi c'era nel canale, bene, chi non c'era saprà che c'era nel senso, chi non c'era mo conosce questa mappa si vado a vedere pure il video di tre anni fa due anni fa, quasi tre anni fa e niente bella giochiamo a Roblox e tutto qua questa mappa è praticamente Among Us, però Among Us, basta Among Us e io sono già morto cioè io sono entrato dopo sono entrato dopo quindi ve l'ho già detto che siamo con Pizzetta Foti Pizzetta Foti dice lasciate like mi raccomando sto già tutto e ragazzi io ho un obiettivo anche se non lo raggiungeremo mai il mio obiettivo è non lo raggiungeremo mai però è mille iscritti però se volete fare la differenza in in questo canale iscrivete esatto poi volete dai mi manca non so finire ok ti senti pronto? oh andré? si ma tu tu che coloro sei? blu mi è arancione me lo so bello perchè aspetta mi sono dimenticato che c'erano le si lo so anch'io non le so questa roba metto quelle del mouse forse aspetta mi piace l'uomo però costa troppo io io per poco mi verano qualcosa io sono innocente idem vabbè vabbè se non questo qua andiamo a farci fare le tasche ragazzi 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 no io non mi ricordo alcune tasche come ti facevano a te ragazzi mi sono mutato sono in posto oh 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 sì tu ti ricordi come ti facevano alcune tasche? sì ancora sì io non tutte ok ora cambiamo se ok la fatta dai dai 95 ma questa porta è a sia a casa si la so sto fastidiosissimo no perché non mi ricordo la gente di me scappa 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 allora qua c'è la tasca qua no questa qua no dai perché è tutto rosso? eh mi sono 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 il viola era in caffetteria allora è il rosso no 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 fra il rosso è il rosso no all'interno di uccidere il viola vai vota 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 il red chi non vota il rosso scemo dai bravo se vi iscrivete attivate la campanellina io ho già finito tutte le tasse tutte tutte aiuto aiuto è il nero si muoio è il nero ok non è andato perché mi è venuto ammazzare non so che era vicino al giallo ti votiamo nero marrone andrea andrea erizio ci sono il marrone che era affegata quello 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 nero che chiesto che stava accanto a me quello la quello che c'è no però se votavo salta era parità me la faccio vedere bene però si 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 ragazzi comunque vi piacciono questi video tipo torniamo a queste mappe dove non giochiamo da un sacco di tempo anche perché roblox non lo portavo da abbastanza tempo ah ragazzi sempre oggi dovrebbe uscire un video di fortnite perchè domani c'è l'aggiornamento di alunni ah si è vero ah ma domani è martedì vero si sono chiuso ti valore lo devo fare insieme si il video dell'aggiornamento di alunni io oggi faccio un video di fortnite un altro video di fortnite ok vabbè vabbè lo facciamo io domani ci so la cosa e dove che vogliamo quella centrale quella è la primaria oh ma come è che bello siamo io e te vai la scopro la scopro non è mica di tempo nei video nei video in cui facevamo sempre sta mappa si si allora mi raccomando giochiamocela bene tu uccidi il bene io uccidi il rosso no io non posso ammazzare mi si è buggato devi aspettare no 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 a me è al posto di uccidi c'è però scritto annull'attività e devi cliccare annull'attività eh allora fa cliccare non fa niente vabbè allora è uccido io tu mi devi coprire ok ammazzalo ammazzalo vai il rosso sei andato ammazzalo ammazzalo ma fra ma ha acquittato ha acquittato allora c'è il rosso sopra è da te che ho scritto sabotaggio si ma non mi funziona ma c***o eh vabbè allora vieni mi devo andare dove è ecco eccolo è ma sta ma sta ma sta vai ma non mi fa prema mi sa che si è pagata tutte e due ma ma pure 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 fa pure te c'è scritto annull'attività no però c'è scritto uccidi però non me lo può fare aspetta seguiamo no che passa vieni corri corri eccolo no vabbè che pensai vai vai no vabbè 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 io rimango ho un'idea se facciamo scodere l'ossigeno vai dove sta l'ossigeno di nulla o niente sì ma noi siamo messi malissimo non possiamo fare nulla dai ma che schifo sto gioco vogliamo guittare e far rientrare no no ma tanto basta che se loro non lo fanno dovrebbero perdere l'autometriamento non lo fanno è inutile pure che cioè mi pare che non lo fanno in quale mentalità non lo fanno vabbè proviamo a vincere l'autometrivo sì sì allora riuniamo l'unico al nostro modo oh però sai che stanno ancora 20 secondi 19 18 eh no stanno facendo eh vabbè ti faccio le bomba li fa uccidere no vabbè dai a me ancora non si è buggato a me ancora non si è buggato ma tu mi vuoi ammazzare no ma stagliati a zero no vabbè vinciamola di voti di voti eh aspetta dove no la potremmo guittare no fra un'idea un'idea iniziamo il voto perché a quanti siamo quanti siamo boh qui sa quattro ok io voto io non lo faccio bravo no anche perché forse così si sbaglia allora mori mori fk non credo che sia lui ma come abbiamo vinto ma vabbè perfetto abbiamo vinto easy easy win easy clap comunque a me si è messo a gioco questo gioco si è molto ma molto buggato eh giro vero abbastanza ma perché non ci vuoi saltare bravo bravo ha stato rilasciato bravo 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 usi bravo mi cambio schiena i am innocent idem Ma intanto secondo me paresti che tu non sei innocenta Cioè io e te siamo innocenti perché Intanto Ma a me ti hai pagato che schifo di gioco Io quitto Dove sei? Perché sei fermo? Quitta ho quittato Vabbè intanto abbiamo fatto 12 minuti di video Quindi ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video Se vi è piaciuto questo video mettete like E iscrivetevi Ciao